Il corpo è libero, Samo Kokonovens, Italia. Ogni esibizione, due minuti circa. Si annuncia un triplo flip, è molto bello! Buon esordio di questo sloveno di Trieste. Bene anche nella serie successiva. E' rotto l'uomo. Rotto l'angelo. In avanti, Flying Camel. Il doppio accelto in apertura di combinazione. Molto bello! Una bella serie. Triplo tono fa concludere. Ancora l'angelo. Un po' sul tallone. Altro, Flying Camel. La signora l'oggi aveva detto, non fatemi parlare.